partita la finale senior maschi mille metri è l'ultima gara di questo campionato italiano pista a san giorgio delle perdite con bravante che si è portato in testa 2 7 6 ha morito marsili bramante all'esterno niero a prendere la prima posizione niero marsili bramante salino maggiorca beton soliani e cannoni passiamo al passaggio ai meno due con 114 ha morito con maggiorca ora in testa c'è portato in testa licenza e maggiorca si è l'ultima gara di un miero poi marsili ed è il maggiorca che prende la campana con marsili dentro a tagliare la curva vieno sull'esterno posto per l'arrivo attacchi e si porta in testa nuovo maggiorca salino e lo sprint e lo taglio al miero bella 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 bella